Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario è dedicata alla manifestazione promossa ieri a Gera dalla Flai CGL in piazza Umberto I. Si è parlato di agricoltura e di gravi problemi che interessano il comparto, soprattutto in merito al caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento. Vediamo. Una tenta nostra per raccogliere le numerose richieste che arrivano dal mondo agricolo e dalle sostegno e risposte, soprattutto in merito al caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento. Appuntamento ieri pomeriggio in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa è stata promossa dalla Flai CGL, il segretario nazionale Ivana Galli. Il 70% del prodotto viene mangiato all'interno della filiera, per cui al produttore costa 5 centesimi, quando arriva sui nostri mercati arriva 2 euro, per cui dal produttore al consumatore c'è un pezzo di filiera che molto spesso è illegale. Ci sono dei meccanismi che mortificano chi produce e il consumatore. Durante l'incontro di ieri si è svolto il convegno dal titolo Agroalimentare di Qualità nella Piana di Gela, dal lavoro nero al lavoro vero. Idee proposte a confronto. I lavori sono stati moderati da Ignazio Giudice, segretario generale della CGL. Mentre la politica produce le iniziative nei teatri al chiuso, noi stiamo in piazza tra la gente e questa è già una bella differenza. Dopodiché il mondo agricolo ha bisogno di risposte, di sostegno normativo, di sostegno economico. Ci sono dei giovani brillanti che hanno una nuova idea di impresa agricola, spesso non hanno i fondi e invece noi dobbiamo agevolarli. Presente anche il comandante del reparto territoriale dei carabinieri, il maggiore Valerio Marra. Il problema delle campagne è molto forte, molto sentito, soprattutto per il lavoro, per la durata delle ore e soprattutto per l'impegno e per lo sfruttamento. Tanti fenomeni di sfruttamento che noi registriamo in tutto il territorio. Ma come si fa a combattere il lavoro nero e dunque ovviare a questo problema dando il vero lavoro? La denuncia innanzitutto, le segnalazioni anonime e attraverso il controllo del territorio. Del problema che si registra nelle campagne gelesi ne hanno parlato i sindaci di Gela, Butera, Mazzarino e Niscemi. C'è questo accentramento dei poteri ultimamente che sta succedendo sia in tutta la nazione Italia che nella nostra regione. Innanzitutto commissari su commissari, questo significa poca libertà, poca democrazia e quindi poca risoluzione dei problemi. Il direttore dell'Inps, Domenico Falzone. L'Inps chiaramente per le sue finalità istituzionali esplica anche su questo territorio e sull'intera provincia di Caltanissetta quella che è la sua mission, cioè noi siamo sul territorio e contrastiamo sia il lavoro nero sia altri fenomeni che oggi purtroppo ci toccano tutti, anche come i cittadini, che sono quelli dei fittizi rapporti di lavoro in agricoltura. Questo attutella chiaramente la legalità e anche per far sì che ci sia un risparmio di spesa pubblica e che siano destinati le ingentive e le prestazioni a sostegno del reddito in favore di coloro i quali effettivamente lavorano in agricoltura. Ennesima lettera ai presidenti dell'Anci regionale e nazionale da parte del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, dei comitati e dei sindaci di Gela, Piazza Armerina e Niscemi per un incontro riguardante la riforma dell'ex provincia e in particolare sulla sofferenza che si sta creando a quattro comuni siciliani e i suoi cittadini. Gela, Piazza Armerina e Niscemi hanno optato per l'aggregazione alla città metropolitana di Catania, Lico di Eubea ha scelto di aderire al libero consorzio di Ragusa. Queste comunità, leggiamo nel documento, hanno deliberato per ben due volte attraverso i rispettivi consigli comunali l'adesione a un ente intermedio diverso da quello di appartenenza. Il 4 maggio scorso la prima commissione all'Ars, dopo tutti gli sforzi sostenuti dai comuni e dai cittadini chiesti attraverso le leggi regionali approvate dallo stesso Parlamento regionale ha dato parere negativo ai quattro disegni di legge di variazione territoriale commettendo quello che molti definiscono uno sfregio alla democrazia. Tutti i valori, leggiamo ancora nella lettera su cui si fonda uno Stato democratico, vengono calpestati. La regione siciliana ha l'obbligo di rendere compiuta una riforma il cui iter interminabile dura ormai da oltre tre anni e ha stremato e confuso cittadini e istituzioni. Infuocata trasmissione agora ieri sera sui nostri teleschermi, si è parlato di politica con cinque componenti, tutti di area PD. Il partito è dilaniato da vere e proprie faide interne. Vediamo. Centrosinistra gelese inquieto. Cambi di casacca, addii dolorosi e dissidi interni che tardano a sanarsi. Se l'attuale ex giunta grillina continua ad essere pesantemente attaccata dallo stesso gruppo che meno di un anno fa l'ha fatta eleggere alla guida della città, c'è da dire che la sconfitta di giugno scorso non ha praticamente insegnato niente al PD e ai suoi cespugli. Questo, almeno quello che è emerso ieri sera nel corso della puntata di Agora, andata in onda su Canale 10. Una trasmissione dedicata tutta ai tormenti di un PD che continua a perdere pezzi e credibilità. E mentre sul tappeto c'è ancora il dualismo dei segretari cittadini, unico caso in Italia, nel frattempo quello che viene definito da più parti un partito inclusivo, si lascia invece scappare elementi storici del suo apparato come Carmelo Casano o potenziali nuovi adepti come Giovanni Panebianco, entrambi, tra l'altro, passati nelle file del re di vivo UDC. Il salotto televisivo di Agora, così, ieri sera ha ospitato cinque componenti, tutti di area PD, ma che in studio hanno confermato come il maggior partito cittadino sia frastagliato in mille rivoli, se non addirittura dilaniato in altrettante faide interne. Tony Aspritucur, con Enrico Vella che si è scagliato contro Giuseppe Licata, Io non ho votato Fasulo, te lo dico apertamente. Eri davanti a seggio a votare Fasulo? Ti posso garantire? Vado a votare mio fratello, non Fasulo, non desideriamo. Ma prima era una confusione, era una confusione, io ti vedevo davanti a seggio a cercare votare Fasulo. Io non ho mai votato Fasulo, anzi, erano di quelli che non volevo Fasulo candidato per evitare quello che è successo. Poi alla fine, ricordo che ho fatto un passo indietro, eri nel megafono con la presidenza di tuo fratello, il megafono faceva votare Fasulo. E io ti sto dicendo, personalmente non ho votato Fasulo, né io e nel mio gruppo. Ma lo stai dicendo adesso, significa che Fasulo perde perché dentro la polizia non l'hanno fatto votare. L'ho detto queste state, l'ha reso dei voti. Ma li perde, significa che lo sta scoprendo stasera. No, no, io l'ho detto a Mazzarino, nella riunione in direzione provinciale, quando abbiamo fatto la verifica di voto. Detto questo perché perde Fasulo, non per colpa di Fasulo, perde perché gli altri. No, per colpa di Fasulo. Ma non penso che Vella non lo fa votare perché gli è antipatico come persona. Ma Vella a questo punto faceva un'altra scelta, non si è candidato nel megafono, suo fratello candidato nel megafono. Ma mio fratello è perché nella presura, allora che fai? Ma stiamo parlando, tuo fratello candidato nel megafono, non partecipi alla compagine dell'elezione del sindaco Fasulo, ma stiamo scherzando. Ma la fai la politica, non è vero. La faccio diversamente da voi, con la coerenza. E lo stesso ha fatto Giacomo Gulizzi nei confronti di Carmelo Casano. Stanno un po' intendendo la trasmissione su questo argomento mio per non fare capire i problemi che ci sono nel PD. Perché se vedete un consiglio comunale, e si vede tutti i consigli comunali, abbiamo sette consiglieri del PD che ognuno ha per i fatti suoi. Abbiamo, come dice Giacomo Gulizzi, ci sono persone che cambiano casacca, che vanno da qua a là. E abbiamo proprio la rappresentanza, il capogruppo, il capogruppo fino a oggi. Il capogruppo l'anno scorso ha mantenuto la maggioranza e prima che è transizzato nel PD ha votato per due anni gli atti del PD, poi ha fatto per due anni la tessera e poi è passato nel PD. Ma ha votato due anni realmente tutti gli atti del PD. Quindi non dite, non è giusto. Non è vero che ha cambiato mai il partito. Ed è colui che ti ha mantenuto la maggioranza a te da assessore, dovresti essere rispettoso nei suoi confronti. Perché è colui che ti ha mantenuto pure il seggio a te da assessore. Quando non riuscivamo a arrivare nemmeno a votare in 12 in consiglio comunale. Quindi tu dovresti portare rispetto a quel consigliere che ti ha mantenuto il posto a te. Perché se non ci fosse stato lui e anche qualche altro consigliere, non ci sareste stato nemmeno tu in maggioranza. Insomma, una sorta di tutti contro tutti che non ha fatto altro che dimostrare, in maniera disarmante, come la pace nell'area del centro-sinistra gelese sia assai lontana e come questa profonda crisi nel PD non aiuti affatto ad affrontare e risolvere i tanti problemi di questa città, la maggior parte dei quali provocati proprio dal PD, che assieme ad alleati ora di destra, ora di centro e ora di sinistra, ha governato, o sarebbe meglio dire ha sgovernato, Gela negli ultimi vent'anni. A completare il parterre di ospiti, l'ex segretario cittadino del PD, e tra l'altro l'ultimo segretario unico a Gela dei Democratici, Carlo Romano, passato nel frattempo con la schiera dei coraggiosi di Fabrizio Ferrandelli. Chi volesse rivedere questa stuzzicante puntata di Agora potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda a partire dalle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, come sempre in prima serata, per parlare di Gela e dei Gelesi. Adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di un sequestro operato dalla polizia di Gela a sigilli ad una rivendita di ricambi auto. Vediamo. Apparentemente chiusa da due anni, all'interno la polizia di Gela ha scoperto centinaia di parti sia meccaniche che elettroniche di auto senza regolare documentazione, dunque di probabile origine furtiva. Il proprietario, un uomo di 46 anni, è stato denunciato per ricettazione. Si tratta di una rivendita di ricambi di auto che insiste in via Settevarine. Su disposizione della Procura della Repubblica, gli agenti, diretti da Francesco Marino e coordinati da Massimiliano Santoro, hanno accertato che alcuni blocchi motori presentavano evidenti segni di punzonatura nella parte del codice numerico. Occultati sotto altro materiale, sono state rinvenute numerose centraline elettroniche prive di documentazione. Indagini sono state avviate per verificare la presenza del materiale e eventuali collegamenti con la base operativa sequestrata lo scorso 2 maggio. Sempre la polizia ha arrestato un pregiudicato di 29 anni per falsa testimonianza e spaccio di droga. Si tratta di Giovanni Simone Alario. Deve scontare 3 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Gela. Denunciati 4 gioresi, i reati contestati sono sostituzione di persona, falsa attestazione al pubblico ufficiale, truffa, diffamazione e omessa comunicazione all'autorità di polizia per lo svolgimento di un pubblico comizio e ricettazione. Manette anche per Gianluca Parisi, 33 anni. Lo hanno arrestato i carabinieri in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Novara. Deve scontare 2 anni e 6 mesi per furto aggravato. Adesso è recluso nel carcere di Contrada Balate. Sarà Iolanda Guttadauro, funzionario del Ministero del Lavoro, la relatrice della conferenza di battito organizzata dal Lions Club del Golfo di Gela, presieduto da Eugenio Piazza, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti, la ConfCommercio e l'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Gela. L'iniziativa si tiene oggi alle 18 nell'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo di Gela. Il tema è le politiche attive del lavoro versione 2.0, la riforma dei servizi per il lavoro di garanzia giovani al Jobs Act. Adesso parliamo dell'incontro promosso ieri dai componenti dell'Osservatorio Nazionale Amianto di Gela. C'eravamo anche noi, vediamo. Salve Dottor Granvilano, ma quali sono le novità che emergono in questa lunga battaglia che l'ONA ha avviato per avere riconosciuti i diritti sull'amianto? Queste, diciamo, non sono ancora i diritti riconosciuti dall'amianto, ma bensì dopo tante indagini della Procura ci sono state rinviate a giudizio 5 giorno 19 di luglio per riguardando la vasca 4 dell'isola 32 e i 85 sacchi di big e ben all'isola 15. Questi operai dello stabilimento che hanno avuto contatto quotidiano con l'amianto quando saranno riconosciuti vittime dell'amianto e quando riceveranno in effetti i soldi che aspettano? Per essere riconosciuti come vittime dell'amianto noi abbiamo fatto un protocollo con allora il Dottor Candaro e lo stringo lo facciamo all'ospedale di Gela in cui noi facciamo le malattie professionali e riguardando a quello che ci risulta vengono riconosciuti se ci sono delle placche oppure ci sono degli infonoidi dipende la patologia perché le placche già sono malattie professionale mappate come MP57 quando trovano le placche automaticamente scattano una denuncia alla magistratura e su tutti questi lavoratori che hanno fatto queste stringhe all'ospedale di Gela tutti sono stati riconosciuti dall'amianto come malattia professionale causata dall'amianto Sì ma se ancora fino ad oggi si parla di amianto si parla di aver riconosciuto un diritto sacrosanto vuol dire che non tutto è stato fatto? Non è stato ancora fatto niente a livello di diritti del lavoratore per aver riconosciuto i benefici a livello previdenziale perché i signori della regione siciliana non hanno fatto ancora né il censimento né le mappature a livello regionale come Gela, Siracusa e Priola, Milazzo In altre regioni d'Italia ci sono lavoratori ai quali viene riconosciuto il diritto di aver lavorato con l'amianto? Sì, sono stati 15 siti a livello Italia noi siamo la Sicilia Il nostro Presidente regionale non si è impegnato neanche di dare gli atti di indirizzo alla regione siciliana per avere il nostro diritto che ci aspettiamo da 20 anni E adesso cosa farete per aver riconosciuto il diritto? Ci stiamo costituendo parte civile riguardando i 5 che sono stati rimpiati a giudizio dalla magistratura Dopo lunghe indagini sono stati rimpiati a giudizio dirigenti dell'Ene Aggiungo che il 24 settembre ci sarà un'altra udienza che sono stati rimpiati a giudizio altri 22 dirigenti dell'Ene E voi vi costituite parte civile? Ma già siamo stati costituite parte civile alla luna e alla nuova Parte a Gela la campagna di sostegno per la raccolta fondi Teleton il gruppo scout Gesci Gela 5 in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia Oggi e domani allestisce dei banchetti dinanzi alla parrocchia per la distribuzione di eleganti confezioni di biscotti che sosterranno l'iniziativa Siamo alla rassegna stampa del Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro da oggi in edicola La cacciata simbolica dell'assessore Eugenio Catania dalla giunta da parte del Consiglio Comunale che l'ha sfiduciato con voto unanime Una sfiducia che non ha alcun valore se non politico perché solo a Messinese compete ogni decisione in merito non trattandosi di nomine elettiva ma del sindaco E questo l'argomento di apertura della prima pagina il servizio di Nello Lombardo Il focus di questa settimana è sul ruolo e condizione delle due residenze sanitarie assistite meglio note come RSA le difficoltà, le aspettative e i servizi prestati alle utenze Giulio Cordaro dedica la sua rubrica settimanale politicamente scorretto alle recenti rivoluzioni della circolazione urbana non del tutto condivise dalla popolazione Il giornale ospita in prima pagina un contributo di Enzo Madonia presidente del Movi di Gela il quale scrive di generazione urbana beni comuni e senso civico Le due volte di Pannella in città un breve ricordo del leader dei radicali italiani scomparso questa settimana Il Corriere di Gela pubblica una foto che riprende Pannella mentre comizia in Piazza Umberto All'interno altri articoli di attualità e cultura tra gli altri quelli a firma di Gianni Virgadaula Franco Lauria e Domenico Morselli Nello sport o razzi a comando da voce al difensore del Gela Fabio Campanaro Bene, con questa notizia terminiamo la prima parte del nostro telegiornale diamo spazio alla pubblicità tra poco Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi della donazione di strumenti musicali per la realizzazione del progetto Music Lab Giovanni di Geronimo all'istituto primo comprensivo di Gela diretto da Rosalba Marchisciana Vediamo Noi partiremo a breve quindi con l'avvio dell'anno scolastico nuovo daremo inizio al Music Lab di Geronimo grazie appunto alla collaborazione della signora Marisa e dell'associazione del dottore Failla che ha realizzato La città ricorderà il bellissimo evento con Giovanni Ferro che è l'orgoglio della nostra città i cui proventi hanno permesso a questa scuola di realizzare questo laboratorio per cui oggi è in un certo senso come dire porre la prima pietra di questo laboratorio perché sono stati consegnati gli strumenti musicali e cominciamo con i ragazzi a parlare del laboratorio vero e proprio La musica ha questa potenza non si esaurisce mai la musica non è solo suonare uno strumento la musica è trasmettere le proprie emozioni E' quello che avete fatto per tutta la vita? Sì che ha fatto il negozio e credo che io sono riuscita a resistere non perché sia stata brava a vendere ma per la passione e l'amore della musica Desidererei tanto proprio che i ragazzi tutti quanti riuscissero a suonare uno strumento non per suonare ma perché la musica aiuta a entrare dentro di noi a renderci più buoni più malleabile e anche nel comportamento sociale più tollerante La musica ha una sua importanza notevole perché consente di crescere oltre alla semplice istruzione perché va ad un livello superiore va ad un livello che consente di elevare i sentimenti di ognuno e di potersi confrontare e quindi diciamo che qui può rappresentare un input in più perché essendo una scuola di periferia si riesce a portare la musica si riesce a portare un'arte così sublime in un tranzo dove normalmente viene considerato che non c'è niente Alberto al di là di tutto sta rappresentando la bellezza della musica al concorso Queen Elizabeth si è parlato di questo ventenne di Gela quindi Gela è risuonata nelle colonne sonore del concorso più importante d'Europa e quindi questo è stato per noi per me, per mia moglie Marisa per tutta la città penso debba essere una grande soddisfazione come una soddisfazione vedere qui oggi tanti giovani a cui viene data la possibilità di suonare sono stati prorogati termini di scadenza del bando per l'assegnazione di contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo relativa all'anno scolastico 2015-2016 lo ha reso noto l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Gela Alicia Abela il termine per la presentazione delle domande di buono libro viene posticipato fino al prossimo 30 maggio i moduli di domanda vanno ritirati negli uffici dell'istituzione scolastica frequentata dallo studente interessato o scaricati sul sito del comune di Gela www.comune.gela.cl.it festa di Santa Rita domani a Gela alle 19 è prevista la Santa Messa in piazza Sant'Agostino preseduta dal vescovo della diocesi di piazza Armerina Rosario Gisana dopo la Messa si terrà una breve processione attorno alla piazza la mattina le messe saranno celebrate alle 8.30 9.30 10.30 e 12 dopo ogni Messa si svolgerà la benedizione delle rose che saranno portate dai devoti e adesso apriamo la pagina dello sport il Gela Calcio che affronterà il prossimo campionato di Serie D a un nuovo direttore sportivo lo conosciamo in questo servizio direttore inizia questa nuova esperienza con la società del Gela Calcio quali sono le sue emozioni i suoi sentimenti per aver ricoperto questo ruolo con l'ingegnere Tuccia e un suo amico il mister Burcoleri ma i miei sentimenti sono un mix di emozione di orgoglio di voglia di fare sono estremamente motivato ripeto far parte essere stato chiamato dall'ingegnere Tuccio per me è un motivo di grande orgoglio siamo in presenza di una società che ha dato dimostrazione con i fatti di fare sempre ma sempre bene e quindi sono veramente molto motivato e ce la metterò tutta metterò tutto il mio impegno la mia professionalità e la mia onestà H24 al servizio del Gela Calcio Avete già in mente quali sono gli interventi da fare in questa squadra che già ha fatto benissimo in eccellenza? Ma questa è una squadra che ha vinto due campionati detto ciò però dobbiamo chiaramente capire che la dimensione ora cambia totalmente il campionato di Serie D è un campionato molto ma molto difficile dove ci misuriamo ci misureremo con piazze altrettanto blasonate vedi Cava dei Tirreni vedi Regina vedi la Frattese ci saranno tante ma non c'era che è salita dopo il fallimento e quindi gioco forza dobbiamo renderci conto effettivamente per poter ben figurare come intervenire è una fase iniziale stiamo iniziando a programmare la stagione e pian pianino partendo dagli under perché sono la base su cui poi poter costruire la squadra aggiungeremo i tasselli che riterremo utili in questo momento ripeto stiamo iniziando ora e quindi ora ci sederemo con calma con il mister e con il presidente e faremo un'attenta valutazione di quello che attualmente è in organico e di quello che servirà si terrà domani tra le vie del centro storico di Gela l'ultima tappa di primavera in bici la manifestazione organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Velo Club che per l'occasione celebrerà il 25esimo anniversario a partire dalle 7.30 sarà possibile iscriversi alla gara il ritrovo è al bar della Palma di Corso Vittorio Emanuele il percorso lungo 3 km attraverserà il Corso Vittorio Emanuele via dell'Acropoli via Generale Cascino e via Navarra Bresmes la manifestazione è patrocinata dal comune di Gela oggi alle 18.30 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi a Gela sarà presente Simona Loiacono finalista del premio strega 2016 presenterà le streghe di Lenza Vacche e infine c'è la pagina dello spettacolo oggi all'antidoto di Macchitella alle 21 sarà proposto attenti a quei due con Emanuele Giammusso Guglielmo Greco e Lori Ardore le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre non ci sono altri aggiornamenti grazie per averci seguito fin qui arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti